Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 18 febbraio 2020, siete sul canale 17 di Fano TV e questa è la rassegna stampa anche ai giornali. Iniziamo col Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda il Santa Gertrude Comensoli ma anche il Beato Giovanni da Fiesole detto Angelico. Il sole sorgerà tra due minuti e tramonterà alle 17 e 41. Il tempo, allora ci sono delle novità, intanto c'è questa grafica che ci propone la protezione civile delle marche per questa mattina che indica con queste icone animate la pioggia sulla provincia di Pesaro e Urbino. E allora andiamo a vedere perché queste icone. Possibilità di qualche breve e locale pioggia sul pesarese nella seconda parte della giornata, quindi oggi pomeriggio. Per quanto riguarda invece il cambiamento, quello che riguarda tutta la regione, dobbiamo attendere domani con l'arrivo anche della pioggia e della neve mista a pioggia invece sui monti più alti della nostra regione. Attorno ai 1300-1400 metri si attesterà il limite delle nevicate domani quando avremo anche probabili piogge sparse dalla tarda mattinata anche a carattere di rovescio anche se poi andranno ad esaurirsi verso sera. Ma infatti torna il bel tempo poi giovedì 20. Giovedì avremo soltanto qualche residuo a pioggia, soprattutto nelle ore notturne, quindi le primissime ore di giovedì. Per il resto poi tornerà il bel tempo con temperature che saranno in diminuzione. Tempo stabile anche nel fine settimana. Uno sguardo alle temperature ancora previste per la giornata di oggi con il grafico e con la tabella che ci indica intorno alle ore 14 qual è la previsione. Ancora temperature al di sopra, molto al di sopra della media del periodo. Siamo ancora a febbraio nel pieno dell'inverno, ma in realtà siamo nel pieno della primavera con 15, 16, 17 gradi addirittura ad Ascoli Piceno. La cronaca sui giornali di questa mattina con Pesaro che è assalita letteralmente dai ladri, ladri specializzati, ladri improvvisati, ladri per noia. Insomma, fatto sta che in queste ultime settimane i pesaresi non se la passano molto bene da questo punto di vista perché tanti sono i locali visitati, soprattutto i locali visitati da bande di addirittura giovanissimi, giovanissimi come vedremo tra poco, ma anche bande organizzate. Si parla poi del Carnevale, c'è il sindaco del Carnevale che l'ente carnevalesca eleggerà o comunque ha deciso di eleggere per i prossimi giorni, anche per il giovedì grasso e il martedì grasso e poi altre notizie sparse, quella dalla provincia. Cominciamo dal Corriere Adriatico, questa è l'edizione di Pesaro. Dicevamo della cronaca, dicevamo dei ladri addirittura in questo caso non solo giovanissimi ma anche golosi perché sono stati incastrati dal cioccolato che è stato ritrovato nel loro covo dove avevano trovato posto per dormire e quindi facevano, come dire, base logistica. Ma soprattutto sono stati individuati anche da un tatuaggio sulla mano che vedremo tra poco e che aveva uno dei membri di questa banda. A centro pagina invece la viabilità che interesserà praticamente tante persone, tanti automobilisti perché parliamo di questo sottopasso via La Marca. Il cantiere è già aperto ma inizieranno i lavori che faranno chiudere questa strada che passa sopra la statale fino a maggio e tra un mese appunto chiuderà anche la statale e modifica la circolazione nelle strade del centro e del mare di Pesaro. Per quanto riguarda le regionali, le prossime regionali marchigiane, il PD avanti piano aspettando il Movimento 5 Stelle, Longhi va da Crimi, i grillini saranno ago della bilancia nelle prossime regionali, il centrodestra dunque al bivio deve decidere cosa fare. Un freno all'inquinamento sempre dalla prima pagina del Corriere ma maglia nera in regione, scaduta l'ordinanza per contrastare le polveri sottili, le PM10 restano alti livelli rispetto ad altre province. Dunque domenica è stato l'ultimo giorno dell'ordinanza antismog messa in via temporanea a Pesaro. La buona notizia è che febbraio si sta caratterizzando per pochissimi sforamenti al tetto delle polveri sottili. La cattiva è che comunque Pesaro resta maglia nera nelle marche. Questo invece è il resto del Carlino, in primo piano lo sciopero del legno, arrivano in 5.000 in città, venerdì manifestazione del settore per il rinnovo del contratto, sono attesi a Pesaro 18 pullman e diventerà dunque la capitale della protesta. Verso le regionali PD, lettera al veleno, villa fastigi anti-ricci, basta colpi bassi. La ex lo lascia a Vallefoglie, lui picchia i carabinieri, era completamente ubriaco, come abbiamo visto in via Lamarca al via i lavori, statale chiusa per 45 giorni. Urbino invece che battezza il Giro d'Italia degli Under 23, il via il 4 di giugno. E poi volantinaggio denunciati sei caporali, sono tutti pakistani con nazionali incaricati delle consegne e li controllavano addirittura con il GPS. Poi tre baby ladri traditi dal tatuaggio e dalla Nutella, tutti i ventenni, sono accusati addirittura di 19 furti. Ma la pagina del Corriere Adriatico di Fano apre con un caso che è finito a processo di un fanese di 39 anni che è stato scoperto tra il 2014 e il 2016, ma in particolare nell'estate del 2015, mentre all'interno dell'Usi Cinema, quindi all'interno di una sala cinematografica, Bellocchi di Fano, registrava i film appena usciti, quindi al cinema appunto, e poi li inseriva, li trasmetteva su internet attraverso dei canali upload dedicati. È stato scoperto, è stato ovviamente denunciato, è finito a processo e la finanza in casa gli ha trovato tutto l'occorrente tecnologico per registrare queste prime visioni e adesso dovrà pagare in qualche modo o con dei soldi per i danni oppure facendo dei lavori socialmente utili. Il 3 marzo il giudice deciderà l'eventuale affidamento ai servizi sociali. Un tatuaggio e gli snack rubati tradiscono invece la banda dei negozi. Tre giovani arrestati, accusati almeno di sei furti, la polizia li sospetta però di una ventina, addirittura di razzie, sono stati bloccati nel cuore della notte, loro si sono giustificati dicendo dobbiamo andare al bar, ma la scusa non ha retto e di conseguenza i carabinieri, le forze dell'ordine che ormai su queste cose, anche sulle risposte strampalate che si sentono dire tutti i giorni, anche da chi commette reati, non ci sono cascati e quindi hanno subito approfondito, non hanno creduto a questa versione che dovevano andare al bar e quindi andando poi a ritroso hanno scoperto che erano gli autori di tutta questa serie di furti, furtarelli, anche così stupidi perché poi alla fine andavano a rubare poco o nulla, ma in realtà facevano anche molti danni, dalla fine di gennaio, dicono della squadra mobile, avevano preso alloggio in un hotel della zona del mare a Pesaro, in camera sono stati ritrovati anche i dolci che non disdegnavano, quindi si portavano via tavolette, snack e quant'altro, e Badioli, vice dirigente della squadra mobile di Pesaro, aggiunge, sono questi episodi molto fastidiosi che generano soprattutto allarme sociale. Eccolo qua il tatuaggio La Stella che è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza e che hanno incastrato uno dei ladri. Erano ghiotti di Nutella, titola così il giornale questa mattina, il resto del calino, di Nutella e di Vivident, che sono le caramelle, il chewing gum, l'identikit della gang. La squadra mobile ha spiegato come il terzetto, sono tutti giovanissimi, è un albanese di 22 anni, un rumeno di 18 e un italiano di 20 anni, originario di Caserta. Ebbene, dicevo, questo terzetto di ladruncoli, tutti senza fissa dimora, puntavano ai bar per razziare soldi e le cornie. Le telecamere dei locali, assaltati, però hanno ripreso la stella tatuata sulla mano di un ladro. E poi c'è un'altra rapina che io mi sono letto questa mattina facendomi venire un po' l'orticaria, sempre sul resto del calino. I rapinatori della Sharpe erano tutti ultra della Vis, erano tre ultra della Vis Pesero. La polizia ha fatto irruzione ieri nella casa dei sospettati, tutti pesaresi, e questi tre, che hanno tra i 19 e 20 anni, sconosciuti tra l'altro la polizia, si sono infilati nei guai per noia. Cioè si annoiavano. E che cosa è successo? È successo che venerdì pomeriggio, intorno alle 5 e mezzo del pomeriggio, hanno dato un calcio allo stomaco ad un quarantenne bolognese. Così, perché si annoiavano. Ma soprattutto perché indossava, in corso 11 settembre, quasi all'angolo con Piazza del Popolo, quindi nella centralissima Pesero, indossava una sciarpa al collo della squadra di basket. Stava andando a vedere il basket di Coppa Italia Fortitudo Germani-Brescia. Tra l'altro non c'era nemmeno la VL impegnata in questa Coppa Italia e come sappiamo, e scrive anche Damiani questa mattina sul giornale, questi tre, che sono tre tifosi della Vispesero, non c'entrano nulla con il basket, perché la Vispesero, come sappiamo, è una squadra di calcio. Eppure questi tre ragazzi con il cappuccio sopra i capelli, a un certo punto, quando hanno visto quest'uomo con la famigliola, la sciarpa, sono andati lì. Gli hanno dato un calcio nello stomaco, questo seppiegato dal dolore, e gli hanno preso questa sciarpa. Ora, questi tre fenomeni, non si sono accorti che quel tratto di corso è pieno di telecamere, di sicurezza, e quindi sono stati rintracciati dalla polizia e sono stati denunciati. Ora, questo è il racconto, che poi va avanti con altri dettagli che potrete leggere sul giornale, comprando il giornale questa mattina in edicola, però, ecco, sono quelle cose che davvero lasciano la mare in bocca. Cioè, questi qui si annoiavano, poi a un certo punto, pum, decidono di dare un calcio nello stomaco a un uomo di 40 anni che beatamente passeggiava con la famiglia e stava andando a vedere una partita di calcio. Mi domando a che punto siamo arrivati, ma soprattutto a questo punto dateci le fotografie e almeno un minimo di gogna. Al sud si fanno queste cose, nel senso che le televisioni del sud pubblicano le fotografie di chi va a rubare, di chi va a spacciare, di chi va a... Qui invece c'è questa usanza che non si può fare, ma non perché non vogliamo noi, non ce le danno, non c'è verso, e quindi sono tutelati anche da questo punto di vista. E quindi questi tre, la prossima volta che si annoieranno, potranno continuare a farlo senza... Perché nessuno sa chi sono. Rubano e gettano lo scooter nel Genica, furti di motorini, anche vandalismi. L'ultimo motorino che hanno rubato e poi hanno buttato sul fiume Genica è successo l'altro giorno. L'hanno ritrovato, vedete, adagiato, come si vede nella fotografia, sul fondo asciutto del fiume. Qualcuno lo ha buttato dopo averlo smembrato di ogni sua parte rivendibile. Ma la notizia, diciamo, più importante, che arriva sempre da Pesaro e sul Corriere Adriatico, è che in città non ci sono solo i ladruncoli di cioccolate, ma ci sono anche bande un po' più organizzate. E qui, in questo caso, in questo articolo, si parla di ladri che girano ben organizzati, addirittura con un camion, per prendere tutto il materiale rubato. Nel mirino sono finite le slot, come è successo al bar vampa, oppure profumi, sigarette, e addirittura delle motociclette. Ecco perché l'utilizzo di un camion. Caporalato. Sfruttavano gli immigrati per piazzare i volantini porta a porta. È un classico, quando si scende o si arriva a casa, c'è la cassetta delle lettere, la posta, oltre alla posta, ci sono anche i tanti volantini delle offerte, quelli del centro commerciale, quello per fare la spesa, eccetera, eccetera. Ebbene, dietro a questa distribuzione di volantini pubblicitari, c'era un'organizzazione di gente senza scrupoli. Sei in particolare, tutti i pakistani, riconducibili a sette ditte che lavoravano in nero, li hanno denunciati i carabinieri perché reclutavano questa mano d'opera tra i connazionali, c'erano anche afghani, richiedenti asilo, tutti sottopagati e addirittura controllati con un sistema GPS. Si ubriaca per amore, finisce in carcere. L'altra notizia che troverete sul giornale questa mattina in edicola, l'uomo è un uomo di 31 anni, è uno straniero, si tratta di un ucraino nato nell'88, operaio, con qualche precedente alle spalle, residente a Monte Gridolfo, che a un certo punto quando sono arrivati i carabinieri ha cominciato ad insultarli, poi ha dato da dire insomma anche agli operatori del 118, ma in particolare quando ha visto la divisa si è scatenato, è andato su tutte le furie, ha preso a schiaffi addirittura un carabiniere e l'altro lo ha colpito al polso provocandogli lesioni guaribili in tre giorni. Tutto è successo lungo via Roma, siamo a Vallefoglia, quest'uomo che era stato lasciato dalla sua fidanzata, fidanzata, la scorsa notte ha preso la bottiglia e si è affogato nell'alcol e quindi poi ha cominciato a vagare da zizzag da un lato all'altro della strada, ripeto in via Roma, infastidendo anche i passanti, passanti che chiaramente poi hanno chiamato i carabinieri. Per seguita invece la ex del compagno, questa è una storia che racconta Elisabetta Rossi dal Tribunale di Pesaro, una storia di due donne, lei contro lei, la nuova compagna contro la ex del marito e non riusciva a sopportare quella donna che l'aveva preceduta e quindi avrebbe cominciato una guerra fatta di aggressioni verbali, anche social e persino fisiche. Così la vittima, una donna fanese, ha sporto denuncia contro quest'altra donna e anche lei fanese. Il giudizio è ancora alle prime battute, tutto è cominciato nel 2017, in particolare come sempre il giornale. Andiamo e torniamo sul Corriere Adriatico, si parla sulla pagina di Fano del maestro degli effetti speciali Andrea Giomaro, è un artista tra l'altro conosciuto a livello internazionale che è sindaco del Carnevale di Fano, convocherà anche il Consiglio Comunale come sindaco, il Comunale dei Bambini e sarà protagonista l'ambiente come il tema appunto di quest'anno. Andrea Giomaro è un fanese di 46 anni, è un discepolo del grande Carlo Rambaldi, il mago degli effetti speciali, ha lavorato in tanti film, in tanti film, Cristian De Sica, eccetera, eccetera. Insomma, tutta la storia e la biografia di questo artista tutto fanese la troverete sul giornale di questa mattina, il Corriere Adriatico. I Carri dei Giovani anima invece il Giovedì Grasso, presentate le iniziative della giornata, giochi, movimenti, musica, il filo conduttore di tutte queste attività. E poi sotto la fotografia di questi giovani ambientalisti che si sono anche durante il periodo di Carnevale si sono armati di maschera e andate, sono muniti di maschera, più che armati, muniti di maschera e sono andati a raccogliere l'immondizia e a pulire le spiagge. Anche qui in questo caso sono stati rastrellati 40 kg di indifferenziato, 11 kg di plastica, quasi 7 kg di vetro e 2,5 kg di alluminio e poi il resto sono mozzicone di sigaretta e quant'altro. Sul digestore anaerobico, sulle pagine di Fano del Corriere Adriatico sempre scoppia nel caso distanze. La Lega stoppa gli studi di fattibilità. I consiglieri del Carroccio hanno trovato prescrizioni che bocciano i siti di Bellocchi, Falcineto e Monte Schiantello. Si parla soprattutto di distanze. Le distanze per esempio di 500 metri dalle case che è stata richiesta da una serie di deliberazioni della Regione Marche che pongono gli impianti di digestione come tutti gli impianti considerati insalubri in una tabella di classificazione 3R3. Cioè è un po' tecnico però per tutte le persone che abitano in quelle zone interessate da questo nuovo impianto lo possono sicuramente leggere con interesse perché ci sono delle cose interessanti. Colpito da un malore e salvato al porto invece questa è la notizia che è arrivata ieri nel pomeriggio dal molo del porto del porto di Fano dove un pensionato di 68 anni si è sentito male a un certo punto lungo il molo due passanti alcuni passanti lo hanno visto riverso in mezzo agli scogli e poi hanno dato l'allarme. Quando sono arrivati i carabinieri uno di questi carabinieri ha praticato gli ha praticato il massaggio cardiaco era già in arresto cardiaco perché era cianotico non aveva il polso e di conseguenza ha cominciato a praticargli questo massaggio cardiaco poi di lì passava un medico un medico che invece gli ha fatto il bocca a bocca la respirazione bocca a bocca e il miracolo è avvenuto quando ha iniziato il cuore a riprendere a battere quindi possiamo dire che insomma se l'è vista brutta quest'uomo ha poi ripreso questo 68enne si è ripreso è un pensionato fanese che è stato subito caricato poi nell'ambulanza dopo che i sanitari lo hanno stabilizzato e portato al San Salvatore di Pesaro dove è tuttora ricoverato e quindi questa è la notizia la bella notizia del giorno incinta è sola ma per Erika spunta un'offerta di lavoro una storia che ha raccontato il Carlino nei giorni scorsi la maratona di solidarietà innescata dal giornale non si ferma dopo proposte di alloggi e raccolte di corredini un imprenditore è disposto ad assumerla dice questo questo signore Meyer che lavora nella ristorazione dice voglio ridare a questa ragazza fiducia nella categoria e questa Erika Rossi di 37 anni che è incinta di 8 mesi dice sono disponibile se l'assunzione avverrà con un regolare contratto e ringrazio in anticipo il titolare purtroppo non posso nascondere una certa diffidenza essendo stata umiliata e trattata male nel lavoro come nella vita privata andiamo nelle pagine di Urbino Raffaello sale sul giro d'Italia sapete c'è il giro d'Italia under 23 quello dei giovani giovanissimi tre giorni di lavoro eventi e turismo la corsa rosa prenderà il via il 4 giugno dalla città ducale la borraccia di Gambini a Ceriscioli sostegno senza colore politico mentre sulla pagina di Urbino del resto del Carlino anche qui si apre con il giro under 23 Fucina di Campioni presentata la gara che attirerà 176 tra i migliori atleti in campo nella maglia rosa il logo di Raffaello Sanzio eccolo qua questa è la maglia la maglia rosa under 23 con appunto il marchio dalla Valle del Metauro da Fossombrone la scuola porta il teatro in carcere lo spettacolo del talento inclusivo grandi applausi a detenuti studenti e insegnanti per voci nella della memoria e poi lezioni da Montellabate per difendersi dai social in cattedra combattenti ereduci la presidente dell'associazione Terenzi dice a noi interessano memoria e tutela dei lavori ora coinvolgiamo i giovani e poi da Vallefoglie il festival dell'amore saluta lanciato un nuovo format dunque si è concluso questo primo festival dell'amore amore per la vita per la natura per la felicità per il benessere il centro commerciale dei cento vetrine con un ucchielli che ha ringraziato il sindaco ha ringraziato sponsor collaboratore associazioni musicali culturali e tutti gli ospiti che hanno cooperato per questo festival al debutto subito un'alternativa alla litoranea e questa è Marotta accordi con Anas e Comuni di Fano per Loccarini la strada impedisce lo sviluppo di Marotta la soluzione è in una complanare si tratta di togliere sembra un progetto futuristico quasi impossibile ma in realtà lo studio dice che è fattibile spostare la statale la litoranea le macchine la litoranea da un'altra parte anche se sembra impossibile però c'è uno studio che dice che si può fare e poi in acqua in acqua e qui siamo ancora a Marotta in acqua con i bimbi gravemente disabili riabilitazione con l'idro chinesiteri idro chinesiterapia idro chinesiterapia ecco l'ho detta bene l'attività organizzata da Asi e Genitori parte il 10 marzo al centro nei Adi di Marotta ci sono 12 posti e dunque a Marotta arriva questa terapia per bambini con gravi disabilità ed è l'attività di riabilitazione in acqua è un grande aiuto per chi è alle prese con il recupero da infortuni ed è fondamentale per chi soffre di gravi disabilità perché facilita l'attività fisica e anche i movimenti rischio internet la polizia postale incontra gli studenti e le famiglie domani pomeriggio alle 18 a Mondolfo a Sant'Agostino con la preside Landini si parlerà appunto di questi rischi su internet c'è tutto ma c'è ci sono le cose buone ma ci sono anche le cose cattive iniziati i lavori su Via Lamarca il cantiere aperto fino a maggio la circolazione tra centro e mare subirà delle modifiche a metà marzo si chiuderà la stata alle 16 smog sempre da Pesaro freno all'ascesa delle polveri ma Pesaro e Maglia Nera in tutta la regione mentre nella zona blu sono state elevate sei multe proseguono dunque i controlli in centro della polizia locale per il mancato rispetto dell'ordinanza poi altro che una via dedicata una via dedicata a Craxi il sindaco Ricci di Pesaro si ricordi il valore di Berlinguer il sindaco finisce nel mirino del partito comunista che risponde nel 2022 un'opera intestata a lui ma Bettino non si tocca insomma il leader socialista ha aperto la strada al degrado politico e morale dell'Italia e persino Silvio Berlusconi ma io credo che senza stracciare le vesti per decidere a chi dare questa intitolare questa via piuttosto che un'altra voglio dire impariamo anche ad intitolare vie a chi magari è nato e vissuto a Pesaro ha fatto tante cose belle a Pesaro non deve essere per forza chiamarsi Craxi Berlinguer Berlusconi Andreotti o quant'altro Berlinguer gliela daranno a Sassari a Craxi gliela daranno a Milano e va benissimo così ma per il resto io credo che sia importante anche dare intitolare vie delle persone che hanno vissuto sul posto e quindi senza andare a litigare per queste cose qua vabbè comunque schianto l'auto resta in bilico questa è la fotografia che invece arriva da Pesaro con un incidente che è successo ieri in Via Costa ferito un pesarese di 84 anni quest'auto vedete si è adagiata su una fiancata ed è rimasta in bilico sulla corsia settore legno e sciopero nazionale a Pesaro arrivano 5.000 lavoratori venerdì prossimo 18 pullman attesi in città punto di riferimento per il centro Italia poi il corteo fino alla piazza e poi dicevamo Via Lamarca che verrà chiusa 45 giorni ci sono molti disagi ci saranno molti disagi in vista perché verrà proprio chiusa la statale che porta a Pesaro e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia il nostro telegiornale arrivederci a presto